Laura, come nasce questo libro? Questo libro nasce un po' per caso, in realtà, dalla passione per la scrittura, ma nasce soprattutto perché attraverso i feedback con gli sguardi dei primi lettori, che sono persone appartenenti alla mia schiera di conoscenza, mi sono reso conto che vissuti intimi, personali, in realtà attivavano risonanze profonde anche negli altri e quindi andavano a toccare degli universali che tutti ci toccano e ci attroversano. In questo libro tu parli di dieci racconti, ci racconti dieci racconti. All'interno di questi dieci racconti abbiamo due racconti iniziali che sono più lunghi, che parlano di una relazione fondamentale, che è quella con i genitori, e le successive otto prose invece parlano di relazioni fugaci, ovvero di incontri particolarmente brevi. Quello che vogliamo chiederti stasera è, in questa analogia che hai fatto tra i primi racconti e i secondi racconti, ovvero li hai messi insieme in uno stesso libro, hai voluto riprodurre quella che era la relazione esistente tra il genitore e il figlio, quindi una relazione fondamentale, all'interno invece di relazioni più brevi, o al contrario hai voluto far comprendere che oltre alla relazione fondamentale, quella genitoriale, esistono delle relazioni brevi che possono essere altrettanto formative? Allora, tu dici molto bene, la relazione con i genitori è certamente una relazione fondativa, che getta le basi per l'identità di ciascuno di noi. Gli incontri fugaci e estemporanei che possiamo vivere durante la nostra quotidianità aggiungono del nuovo ma consentono allo stesso tempo di riattraversare le relazioni iniziali e quindi il filo conduttore che collega tutti i racconti e l'incontro come evento generativo, fondativo all'inizio, e con questo mi riferisco all'incontro con i genitori, ma anche trasformativo rispetto a tutti gli incontri che ci ritroviamo a attraversare lungo la nostra vita.